Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally Lanciastratos HF Livrea all'Italia edizione Centauria in scala 1 a 8 uscita numero 41. Chi è che pilotava questa splendida auto numero 10? Sandro Munari, il pilota, e il suo navigatore Silvio Maiga. Qui abbiamo la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi. Questo è quello che abbiamo ricevuto in questa uscita. Andremo a completare la quarta ruota posteriore destra. Fasi di montaggio molto semplici ma se proprio uno vuole essere pignolo vi farò vedere una cosa che vi avevo già fatto notare. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti e per quelli che ancora non si sono iscritti. Se avete piacere iscrivetevi, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli. E infine se qualcuno tra di voi avesse piacere di farsi montare il modello da me mi contatti privatamente. Grazie. Andiamo adesso a vedere l'immagine. Come appare il modello dopo questa ultima sessione di montaggio. Ecco qui. e qua ci dedichiamo a pochi minuti di lettura importante le uniche due mezze pagine che vengono dedicate a questa grande icona automobilistica. perfetto. All'interno troviamo il cerchio interno che è in plastica. La guarnizione che bisogna mettere tra il perno della ruota e la vite DM. una serie di viti anche CM. Oltre a questa. Tutte e due destinate ad essere avvitate nel metallo. Quindi se volete potrete usare un lubrificante. Qualsiasi lubrificante. Ragazzi non mi chiedete che tipo. qualsiasi. E vi andate a creare i filetti. Io li ho già fatti. Eccoli qua. Questo è quello che abbiamo trovato nell'uscita numero 40. semplicemente prendete una vite DM. Chiedo scusa. CM. Vi basterà intingere una sola vite per crearvi tutte e tre i filetti. la bagnata appena appena. E poi filettate. Io, come vi ho appena detto, guardate come scorre bene. Ho già fatto tutto. Poi troviamo questo. Che è il coprimozzo. E guardate la particolarità che già... lo dico meglio ma... la particolarità. Ok. Così va bene. che già vi avevo fatto notare. In quello precedente. Vedete. Qui abbiamo addirittura... la riproduzione della coppiglia in metallo blocca dado. Vedete. Questa è l'uscita e questa è... l'intersecazione della coppiglia per evitare che possa uscire fuori e quindi... durante la marcia, visto che le ruote sono un monodado per permettere... ovviamente ai meccanici di essere molto più veloci a sostituire... laddove ce ne fosse la necessità una qualsiasi ruota... e quindi per evitare appunto che possa esserci uno smontaggio... uno svitamento accidentale... si mette questa coppiglia come nelle Formula 1. Perfetto. Adesso invece andiamo a vedere... il disco... ecco... il disco... lo potete montare così... lo potete montare così... e così... in tre posizioni... perché i perni... una volta che li avete centrati va bene... ma solo una è quella corretta... se proprio vogliamo essere pignoli... cioè dovete fare attenzione che queste linee... con bacino con quelle dietro... vedete... in questo caso... se io lo montassi così... i perni sono centrati... vedete... dietro... ma se io lo montassi così... guardate... qua abbiamo la riga... ma qui la riga è spostata... vedete... non va bene... allora... lo facciamo scorrere di uno... e vediamo cosa succede... se non basta... ancora uno... vedete... qui abbiamo la riga... e qui non ce l'abbiamo... e allora la posizione corretta... è quella seguente... eccola qui... bene... la barzelletta l'abbiamo detta... non è nemmeno questa... però c'è... e riusciremo a trovarla... eccola qua... adesso vi faccio vedere... guardate... vedete... i perni sono inseriti sotto... adesso poi andremo a premerlo bene... però vedete che combaciano le linee... eccole qui... una e due... vedete... perfetto... adesso in corrispondenza dei perni... poco per volta... inseriamo delicatamente... senza avere fretta... ecco... certamente... non vi preoccupate se avete sbagliato e non volete di nuovo riaprirlo... vi ho fatto vedere nel video... dove ho montato l'altro disco... come si fa a riaprirlo senza danneggiarlo... però non vi preoccupate... ecco... vi faccio solo vedere... vedete... qui abbiamo la linea... e qui da quest'altra parte abbiamo l'altra linea... così come tutte le altre tre... o meglio... le altre due... ecco... perfetto... bene... adesso non ci rimane che prendere il modello... eccolo qua... io ho preso con la vite dm... sempre il lubrificante... e sono andato ad avvitarla qua... andiamo a rimuovere il tutto... inseriamo il disco... molto semplice... andiamo a svitare le tre viti CM... controllatevi il copertone... guardate che tutto sia perfettamente... stampato bene... stampato bene... perché ci può essere una parte che è meno bella dell'altra... ovviamente... vi consiglio di metterla all'interno... qui ho un segno... vedete... vi faccio vedere... questo... la metto all'interno... quindi metto il bello di qua... perfetto... attenzione a non schiacciare sulla valvola che potreste danneggiarla... facciamo inserire bene... mettiamo questo nell'unica posizione possibile... quindi così... evitiamo... se avete piacere... iscrivetevi anche ai gruppi che ho su Facebook... ne ho uno per ogni modello che sto costruendo... dove possiamo darci consigli... creare una socializzazione di amanti del modellino e del modellismo... e perché no... come... a volte può accadere... piacevolmente accadere... anche che possano nascere delle belle amicizie... allora... adesso possiamo stringere... piano piano... un po' da una parte... un po' dall'altra... non esagerate... una volta che siete arrivati con la vite imbattuta... non dimenticatevi che la vite è avvitata nel metallo... ma questa parte è plastica... se esagerate... spezzerete... questa parte qui... quindi io direi che va bene così... perfetto... adesso prendiamo la vite... dm... qui abbiamo uno scasso... ve lo faccio vedere... eccolo qui... questo più alto... che deve andarsi ad inserire qui... basterà far girare la ruota... finché vedete che il disco girerà insieme al cerchione... allora l'avrete preso... eccolo qui... vedete... l'ho preso e l'ho perso... un attimo eh... allora ragazzi... ho messo un po' in pausa... ho fatto un po' di prove... mi sono accorto... almeno nel mio modello... di una cosa... che si è risolvere... non è un problema... che anche avendo provato a centrare lo scasso nel freno a disco... guardate il freno a disco... e non gira insieme alla ruota... vedete... si muove... poi si ferma... ecco... adesso si ferma... e poi si muove ancora... il problema... il problema... è dettato da questo... allora se noi andiamo a prendere il nostro disco... lo mettiamo così... lui si inserisce... a un certo punto... nella sua sede... eccola lì... vedete... però... guardate... la parte in metallo... quella gialla... e adesso è grigia un po' perché è andato via la vernice... è più alta del disco... e questo non deve succedere... ovviamente... perché essendo più alta del disco... cosa succede... che va in battuta... prima il metallo... il disco non viene catturato... affinché... venga lui permesso di rimanere intrappolato nello scasso... cosa fa... si sposta... e questa gira... allora io cosa vado a fare... andrò a consumare un po' questa parte qui... adesso provo a prendere... una cosa... un attimo... metto in pausa... questo lo faccio per quelli che non hanno... tante possibilità di avere degli utensili a casa... quindi... faccio una prova... ma non è detto che io ci riesca... perché... ovviamente io userò una moletta... elettrica... però cercherò di trovare anche... qualcosa... per chi la moletta non ce l'ha... ok ragazzi... guardate... questo video verrà necessariamente più lungo... ma... avete pazienza... lo faccio per voi... ecco qui... ho fatto che... smontare nuovamente il copertone... è molto più semplice... prendete una lima... io ho già iniziato... e fate questo lavoro qui... vedete... fate attenzione... perché la limatura di ferro è altamente abrasiva... quindi... ogni due o tre giri... spostate e pulite tutto sotto... altrimenti vi troverete tutto il cerchio senza vernice... fate attenzione... adesso poi vi farò capire bene... ancora meglio... come ve l'ho già spiegato prima... cosa riusciamo ad ottenere... guardate... ecco qua... guardate... a questo punto noi abbiamo avvicinato questo di più allo scasso del disco... andiamo a provare... ecco... vedete... adesso lui non scappa più... dovete fare anche attenzione... a non uscire troppo con il perno... fuori dalla ruota... vi faccio vedere... con il perno nero... che non usciate... che non consumiate troppo il pezzo... aspettate perché sono stato in silenzio... perché cercavo di mettere più luce... all'immagine... ecco... questa parte nera... non deve venire... più alta... di questa parte gialla... altrimenti poi... la vite non tiene bene... ok... cioè ve lo stacca di nuovo... ecco... adesso noi... io direi che può bastare... anche se avrebbero potuto lavorare meglio in questo caso... ma... può già bastare... perché così non mi scappa più... aspettate... do ancora... una limatina leggera... una limatina leggera... ecco qua... adesso metto pausa... monto il copertone... e poi vi faccio vedere... un attimo... ok... bene ragazzi... vedete... ho consumato un po' senza esagerare... come vi ho spiegato... e anche il perché ve l'ho spiegato... non esagerato... adesso inseriamo questo all'interno... certo... sarebbe stato molto più semplice... mettere della colla... e incollarlo... così... però il problema è che poi non riusciamo più a inserirlo... dentro la pinza dei freni... quindi questo non si può fare... ripeto... non ci dobbiamo giocare... però... se possiamo intervenire per poterlo montare correttamente... è meglio perché no... ecco fatto... adesso gira... scusatemi che esco dall'inquadratura... ma sto semplicemente... mettendo la vite sopra... ok... perfetto... adesso va bene... ok controllate anche voi il disco ovviamente deve girare insieme alla ruota ma non è così ovvio per quanto riguarda quello che è capitato a me perché se non intervenivo il disco rimaneva fermo invece adesso gira insieme alla ruota perfetto che meraviglia adesso andiamo a prendere quello che abbiamo montato andiamo perché voi siete la vita del canale ecco perché parlo al plurale quindi andiamo a prendere tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero il 41 andiamo a mettere la coppia qui o meglio il bullone con la coppia e poi ci salutiamo ecco qua bellissimo a dopo a un attimo un attimo ragazzi abbiamo ancora una cosa da fare dobbiamo prendere questo questo tubo qui e che è l'ultimo in basso della bobina a spinta erogeno il quarto da sopra e il primo da sotto eccolo qui mi auguro che vi siate incollati i tubi altrimenti appena tirate vi si staccherà ve l'avevo detto e vi ricordate e andiamo a inserirlo qui ecco io adesso lo inserisco così poi sapete che io vado di nuovo a staccarlo metto il collante all'interno del tubo non sul perno e abbiamo finito vedete abbiamo attaccato un altro tubo eccolo qui bene ci vediamo dopo che spettacolo che spettacolo ma quanto è bella questa macchina quanto bellissimo quello che sentite in sottofondo visto che io non ho la possibilità perché non ne sono capace di mettere la musica sono dei miagoli del mio bellissimo e splendido fratellino il mio gattino michelangelo che è un tigrato europeo di due anni se lo lascio libero qui ho finito di o meglio inizio a usare la colla per incollare tutti i cocci che mi che mi crea il gatto allora guardate che meraviglia è verniciato è sia la parte grigia che quella nera ed è in metallo copertura gruppo fari secondari qui abbiamo i ganci in metallo che poi grazie a degli elastici una volta posizionata la copertura sui fari permetterà alla stessa di rimanere in posizione un attimo perché ve la devo far vedere sto cercando di mettere più luce all'immagine ma figuriamoci non ce la faccio allora ditemi voi questi non vi sembrano in vetro sono in plastica ma a me sembrano di vetro tanto che sono fatti in maniera perfetta se poi si mettesse a fuoco anche meglio non sarebbe male proviamo a levare la copertina da dietro vediamo vabbè ragazzi non pretendete troppo da michele io ho parecchi limiti per quanto concerne questi discorsi qua comunque tutto verniciato tutto illuminato per quanto riguarda sia il gruppo fari secondari che primari grazie a sei led uno per ogni faro targhetta in alluminio verniciata ammortizzatori funzionanti perfettamente funzionanti sterzo guardate che fluidità andate a vedere la modifica che ho fatto se avete piacere e questo lo avevamo montato prima nell'uscita non questa ma quelle precedenti adesso siamo andati a montare la ruota destra posteriore eccola qui perfetto bene io sono veramente più che soddisfatto guardate come ammortizza bellissima il motore è veramente bello mi piace come è stato riprodotto il sistema di di marmitte mi piace mi piacciono tutti questi leverismi qui delle stabilizzatrici mi piacciono mi piacciono tantissimo va bene ragazzi michele vi saluta vi ringrazia del vostro tempo mi stava cadendo il telefonino e vi da appuntamento ai prossimi video ciao ragazzi un abbraccio a voi un saluto a tutti i vostri cari più cari sì volevo dire cari più cari ma sono un po' dislessico ciao a tutti